La Corte di Appello di Bari ha assolto dall'accusa di truffa aggravata Leonardo Caldarola e Antonio Mucci, rispettivamente direttore e dipendente della filiale di Barletta della Banca Popolare di Bari, condannati in primo grado dal Tribunale di Trani alla pena di un anno di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 10.000 euro nei confronti delle parti civili, un correntista e i suoi anziani genitori. I fatti risalgono al giugno del 2012 quando, secondo l'accusa, i due avrebbero indotto gli anziani genitori di un nuovo correntista che aveva chiesto un fido di 200.000 euro, poi respinto dall'Istituto di Credito, a sottoscrivere due polize vita per un importo complessivo di circa 330.000 euro. Il prodotto assicurativo poneva come limite l'impossibilità di riscatto nel primo anno, salvo pagamento di una penale. Quando gli anziani chiesero il riscatto anticipato alla vigilia del primo anno, scoprirono perdite sul capitale, a dire dei querelanti non note per carenza di informativa. Dopo la condanna, inflitta in primo grado nel processo di appello, la difesa ha dimostrato il comportamento lecito dei due dipendenti della banca, ottenendo la soluzione perché il fatto non costituisce reato.